Come ti senti, Jimmy? Come il principe dei figli di puttana, signore! Arrate su! Piatta le trombe! Si parte! Piatta le trombe Piatta le trombe Non mi sono mai abituato alla tavola leggera Non mi ci trovo, io uso la tavola pesante Lo so, è una fregatura Tu usi? Preferisci la tavola leggera o la pesante? Come te! Sono serio? Si! Credevo che ai giovani quelle leggere piacessero di più Non ti sospendo, non sto a punto Granducca 6, Granducca 6, d'Aquila in picchiata 7 L'abbiamo individuato Granducca 6, d'Aquila in picchiata 7 Pru a 2-7-0 Assumete la formazione d'attacco Affermativo, Granducca Noi siamo pronti? Ehi, l'abbiamo! Spunteremo fuori a bassa quota dal sole che sorta E a un miglio di distanza gli spariamo la musica Musica? Sì, io uso Wagner I servaggi si cagano sotto E i miei ragazzi si casano Ehi, adesso mettono la musica Com'è che mi sedete tutti quanti i sogni e metti? Così non ci rimettiamo le palle, magari Granducca 6, d'Aquila in picchiata Si parte con la psicoguerra Bella forza Romeo, Vox, Trot Sono aperte le danze Vai così! Sì, signore! Ahè! Sì, signore! Grazie a tutti. 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 Davvero straordinario, squadra rossa. Avete vinto una cassa di birro. Grazie a tutti. Ben fatto, Falchi, ben fatto. Adesso voglio vedere fuoche fiamme su quelle file di alberi. Rivolpiamo le budelle a fuoco. C'è un veicolo sul ponte con una contraeria leggera a bordo. Vanno a rifornirsi le munizioni. Qui è in Gran Ducca 6. Sgomberate l'area. Adesso vengo giù anch'io. Non vuoi dare un maio. Per colpo, Bill! Calma, calma! Sono un bel piano! Togliete qualcosa da lì! Puttalo fuori! Puttalo via! Puttalo via! Sono un raggio, state tranquilli. Calmatevi, buttatelo fuori. State tutti bene? Tu stai bene, Len? Per colpo, pes, pes, pes! Calmatevi! Calmatevi! Sarla pastora! Calmatevi! 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 Io non ti vado! Io non ti vado! Io non ti vado! Io non ti vado! Avanti! Ci sono obiettivi secondari qua giù nello spiazzo. Cerchiamo di non disperdere le forze, mantenete le posizioni e restate in contatto. Duca 6, duca 6, ci sono dei feriti laggiù. Ti prego, Dio! Portate una barretta! Ti prego, Dio! Aiutami! Ti prego! Diamo gli un po' di morfina. Aiutami! 0, 3, 7, 7, 4, 2! Quando arriva l'elicottero! Portate via i miei feriti, li voglio in ospedale entro 15 minuti. Ripeto, portatele via! Qualcuno rimanga a coprire il granzughe 6! Qui, 10-10, scendiamo e ripartiamo subito. Sembra che Charlie ci lasci lavorare in pace, signore. Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie.